Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Come ogni domenica oggi vi porto un video su gli accessori o modifiche per la vostra macchina Quella che vedete adesso è la mia pagina Facebook Andate a mettere il mi piace, ovviamente se volete E in quanto qui riporto sempre le mie notizie su cosa faccio e cosa non faccio Consigli, sondaggi eccetera eccetera Detto ciò ho anche fatto una nuova copertina per il canale e per la pagina Facebook Non so, se vi piace scrivetesi nei commenti Lascio anche il sondaggio, momento sì e no, insomma ora decido Questa ovviamente è la mia mitozza Detto ciò, sigla e cominciamo subito Allora, cominciamo, questa è la lista Cominciamo con il primo prodotto BMC FBSA, questo è il codice, va bene Sarebbe lo sfiato per la nostra turbina, ovvero il classico pop-off che si sente Non è la classica valvola pop-off perché quella è elettrica Questa invece è semplicemente uno sfiato E dato che io ho la 120 cavalli turbo bands È già dotata di valvola elettrica Ma gli manca lo sfiato, quindi in caso io comprerei questa E andiamo comunque a risparmiare tanti soldi perché a comprare tutta la valvola sono somme abbastanza elevate Questa invece costa solo 26 euro, quindi se volete un sound più accantivante questo va per voi Andiamo sul secondo prodotto Un kit per verniciare i freni della vostra auto Nel set sono presenti vernice, indurente, guanti, la spazzola in ferro, pennellino e spatolina Io l'ho già comprato, ci ho verniciato i fari miei, sono spettacolari Quindi ve lo consiglio Inoltre costano solo 30 euro E ci fate più di 4 freni Passiamo al terzo prodotto Questa è una lucidatrice Anche questo è una cosa che io andrò ad acquistare più avanti Per pulire in maniera top la mia macchina È la migliore che ho trovato con rapporto qualità prezzo molto buoni Quindi ve la consiglio Questo è il quarto prodotto Kit per dippare qualsiasi parte dell'auto Qui ci sono rappresentati i cerchi Ma va bene anche per qualsiasi altra parte Io infatti ho dippato anche le cornici dei vari Lo scudo e la striscia cromata Però con un'altra marca Un marchio italiano Cardip Italy che non è presente su Amazon E costano di meno E sono comunque prodotti ottimi Perché non hanno difetti E quindi sono due bombolette da 400 ml E bastano per 4 cerchi Ci sono di vari colori E costa 42 euro Ultimo prodotto Un kit di lampadina L'oxenon H7 6000 Kelvin Veramente buoni In quanto l'hanno comprati Dei miei amici E sono rimasti molto soddisfatti Ho visto anche i risultati Sono stupefacenti Profondità ottima Luce veramente bianca Inoltre adesso c'è una promozione Che ti levano 3 euro dal prezzo iniziale Ma alcune volte costano anche meno di 49,99 euro Comunque detto ciò Vi metto la lista in descrizione Tutti i link se volete seguirmi da qualsiasi parte Sono in descrizione Che altro volevo dirvi Ah si Ho comprato i freggi per la mia macchina Li voglio sostituire tutti E quindi più avanti metterò i video sui freggi E mercoledì uscirà il video su come frappare le maniglie Dei sportelli interni della Mito Quindi se non l'avete fatto Iscrivetevi Mettete la campanella Così vi avverte Vi arriva la notifica Detto ciò ragazzi Io vi saluto Per questo video è tutto Buona domenica E arrivederci Ciao a tutti Grazie a tutti.